ciao a tutti luna rossa family amiche ed amici valorosi abbonati benvenuti e ben trovati per l'oroscopo 2024 vedrete ben 12 video che durano dai 20 e 30 minuti ciascuno perché andremo a fare queste previsioni per tutto l'anno andremo a vedere tanti aspetti in questo oroscopo non solo la vostra vita sentimentale ma in generale come andrà questo anno soprattutto certi punti sulla quale siete come dire con una corsia preferenziale altri diciamo che magari potrebbero essere se c'è più scalcagnati dove magari cose ponete la giusta attenzione potete schivare degli ostacoli allora amici io intanto vi ricordo per chi vuole le proprie previsioni proprio letteralmente ecco personali fai conto che potete contattarmi su whatsapp per metterci d'accordo in questo senso fate conto che la finestra per fare queste previsioni già un più o meno scade verso il 2 di gennaio dice perché perché si parte da so wayne e noi l'avevamo visto con il nostro video diciamo dove il velo tra della conoscenza dei due mondi è più sottile questo soprattutto per quelle che sono le previsioni del 2024 vale per questo periodo quindi da dopo il sostizio d'inverno circa due tre giorni dopo il sostizio d'inverno e per dura o due tre giorni prima a seconda degli anni e dura per quest'anno diciamo ecco fino a per quanto mi riguarda due di gennaio dopodiché levo totalmente mano diciamo torno alla routine non mi interrogo neanche in questo senso nel fare le previsioni e vi dico anche che non ho avuto il tempo di fare quelle mie personali perché ho accolto tutte quelle che sono le vostre richieste anzi in questo senso mi scuso se con qualcuno diciamo sono ancora in ritardo non mi sono dimenticata avrete tutti soddisfazione a tempo debito allora a tempo debito o anche diciamo cose sono un attimino ecco in ritardo comunque in ogni caso l'importante che ho la previsione la faccia in questi giorni anche se voi il video per esempio vi arriva per dire il 3 gennaio non vi preoccupate l'importante che ho fatto la previsione in quell'arco di allora detto questo amici c'è un video ecco per ogni segno zodiacale andremo a vedere tutto ecco nel dettaglio io semplicemente ecco vi volevo augurare ma di vero cuore un ottimo 2024 che sia per tutti quanti i segni diciamo ecco fuoriero delle più belle soddisfazioni spero che vedremo delle cose molto belle e ovviamente ecco prima di iniziare l'oroscopo di ogni segno io vi avevo messo diciamo ecco una piccola sigla cosicché diciamo ecco possiamo anche inaugurare molto più allegramente diciamo con con un pochettino di sprint con un pochettino ecco di luci quest'anno nuovo anche noi auguri ancora auguri e buon ascolto per tutti i segni noi ci vediamo comunque in ogni caso per gli update dell'oroscopo è settimanale e anche per l'oroscopo del mese di gennaio che arriverà per la vita sentimentale proprio nello specifico nei prossimi giorni va bene un bacione grande e buon ascolto ancora auguri ma ciao benvenuti amici del segno dei gemelli ok qui abbiamo una stella abbiamo la torre vediamo come va il vostro 2024 scusate che qui spengo la cassa altrimenti sentite ok ok cosa c'è rimasto qui abbiamo l'appeso allora gemellini miei del mio cuore come va quest'anno ecco per voi intanto la vostra personalità si evolve nella direzione diciamo ecco di una persona più paciosa mettiamolo così ma non che voi siate che sono diciamo bellicosi generalmente ma io direi ancora di più diciamo ecco più legate a il tipo di persona che sognate di essere quindi dove vi sentite così letteralmente così il zen raggiungete in qualche modo il nirvana lo volete raggiungere lo stato d'animo in realtà è più legato a un momento di rottura rispetto a dentro è come se qualcosa nel corso dell'anno diciamo ecco vi tocca talmente profondamente che questa sorta ecco di crisi ecco perché vi parlavo di nirvana no è quasi necessaria no ok direi che è come se andrete incontro ad una esperienza esistenziale diversa o nuova per voi rispetto a come vi percepite a quello che veramente siete è un percorso nuovo abbiamo il mattolo zero quindi non c'è una pianificazione in tutto ciò dovrete anche imparare veramente ecco da capo come se dovreste ristrutturare la vostra personalità mi vengono in mente no quelle persone che tutta la vita si sono viste come moglie e poi si devono vedere come single per esempio o sono sempre state single e poi si devono vedere accanto ad una persona e devono ovviamente adattare la propria personalità no quelle persone che si sono viste da lavoratori dipendenti a lavoratori indipendenti quindi magari che sono liberi professionisti eccetera eccetera quindi è proprio in questo senso un cambio totale di mentalità necessario allora al presente qui abbiamo l'imperatore quindi direi che sei in una posizione certamente diciamo ecco di potere nel senso che qua non ti devi mettere proprio letteralmente d'accordo con nessuno in questo momento in ogni caso sembra che anche a casa ci sia una situazione direi abbastanza equilibrata in questo anno lì dove per esempio letteralmente ci sono delle questioni che hanno a che fare con pregresse separazioni oppure lì dove ci sono di mezzo avvocati o situazioni diciamo ecco legali o anche se non ci sono legali comunque c'è da fare una sorta di arbitrariato fai conto che quest'anno tutte queste cose ti possono certamente sistemare il tuo ambiente le persone che sono vicino a te guarda non aspettano altro che tu abbia tempo per loro a dire il vero sembra che potrai fare comunque come dire ecco non so se dei viaggi ma ti posso ti posso ventilare la possibilità di un anno dove sono previsti sicuramente ecco degli spostamenti per fare delle nuove amicizie per vedere posti nuovi mi vengono in mente quelle cose tipo mangia prega ama no qualcosa di questo tipo potrà sì che ci sia per qualcuno di voi allora i desideri nuovi per te in questo anno vanno nella direzione di avere una maggiore forza d'animo di una maggiore forza proprio interiore sicuramente trovano strada tutte quelle cose che per quanto ti riguarda hanno a che fare con una risoluzione di quelle che sono delle situazioni karmiche che ti porti magari tanto passato le lezioni da imparare e anche come processare queste lezioni per andare avanti con una versione di te che ha chiuso col passato ed è pronta per un nuovo futuro sicuramente in questo caso diciamo i progetti di successo che ti riguardano sono quelli legati letteralmente alla libertà perché qua ci sono dei vincoli come dire ecco tossici che devono essere necessariamente ecco spezzati in questo anno e credo proprio che sarà così per la maggior parte di voi poi magari andate a vedere anche gli altri aspetti del vostro tema natale e posso dirti anche che quest'anno rispetto a diciamo ecco come posso dirti ti dicevo prima diciamo l'anno un po zen per te no perché perché è come se tu acquisisci quest'anno delle consapevolezze legate a ciò che ti rende felice il sole anche legato agli aspetti materiali per dire no quindi è come se tu quest'anno rispetto al come è concepito la vita ti senti non tanto illusa ma disillusa ecco perché arriva questo change totale no le tue speranze sono legate al fatto che come se tu dovessi recuperare un tempo perduto no che sia un anno due anni dieci anni vent'anni sinceramente non lo so però finché c'è vita c'è vita cioè finché c'è vita c'è come si suol dire la possibilità di viversi la vita più o meno la tua il tuo leitmotiv no quest'anno sarà anche questo qui c'è di coltivare queste speranze di rinnovare totalmente di sentirti rinnovata la tua vita sentimentale per la maggior parte dell'anno potrebbe risentirne sono sincera rispetto a quello che sto vedendo perché abbiamo l'erenita è come se tu ti prendi un tempo per te stessa più legata a scoprire e trovare la nuova te migliorarti per la tua crescita personale più legata al fatto che devi tagliare questi cordoni tossici più legata al fatto che vuoi scoprire non solo te stessa ma anche il mondo intorno a te il tuo posto nel mondo quindi anche con le coltivare delle nuove anche delle nuove amicizie e queste persone sicuramente si sentono arricchite anche dal dal tuo modo di vivere no non sei tanto una persona che si piange si piange addosso quest'anno attenzione ma se una persona come dire ecco che va a processare tutto quello che è successo nella propria vita con questo sole che dice no vabbè effettivamente ho preso un palo io non è che qualcuno me l'ha data sta palata no quindi un po di disagio direi che si può avere anche rispetto alla possibilità di creare delle nuove situazioni piano piano magari il tempo che ti tranquillizzi c'è come dire ecco un po di paura rispetto ad un equilibrio che tu hai bisogno di ritrovare ci può essere qualche momento di alti e bassi in questo anno però tutto sommato no guardarti dentro rispetto alle te zone di luce rispetto alla te zone di ombra ti farà capire probabilmente anche per te come per gli amici dello scorpione poi se nel tuo tema natale c'è pure lo scorpione insomma abbiamo fatto bingo quest'anno nel senso che anche a te ti vede impegnata sul fronte di nuove spiritualità non è che voglio dire new age ma vai a vedere magari forse arriverà una nuova moda spirituale quest'anno chissà andiamo a vedere adesso nello specifico cosa succede proprio nei prossimi mesi nel futuro immediato per esempio nell'ambito del lavoro c'è un cambiamento importante quindi c'è un punto con un avvio di qualcosa di nuovo che prenderà come dire con un avvio molto più concreto molto più stabile molto più gestibile da parte tua nel corso dell'anno infatti c'è infatti il mago quindi potrebbe essere l'interazione di un rapporto di lavoro alla fine di un progetto qualcosa che vince per andare nella direzione di qualcosa che per te è più gestibile anche più sulle tue corde se vogliamo dirla così per quanto riguarda ecco l'amore ripeto infatti qua si vede che c'è la luna il periodo di quest'anno è un po alti e bassi per qualcuno può darsi che ci possa essere magari ecco una relazione come dire ecco che non viene prioritizzata c'è nel senso magari ecco una persona non dica passatempo però qualcuno che magari potreste volere bene ma che non andate a presentare nei vostri figli nella vostra famiglia quindi una frequentazione diciamo ecco che ogni tanto magari ecco tenete la di nascosto senza triangolazione in questo caso però però dopo diciamo se all'inizio parte così dopo dico anche che andrete nella direzione di una scelta nei confronti ecco di questa persona o perlomeno se la scegli o non la scegli comunque ci arrivi a questo bivio tenendo anche da conto che potrebbe essere pure una buona persona questa qui eh per quanto riguarda gli aspetti legati al tuo stare bene qui abbiamo sia il papa che anche il mondo e sono due carte certamente positive significa che tu quest'anno non solo ripeto ti metti anche alla scuola di stessa rispetto a ciò che ti ha insegnato la vita ma potresti fare anche il guru per dire la verità no ecco perché la gente ricorre dietro perché è come se fosse anche una sorta di esempio per tante cose e diciamo ecco quest'anno arrivi totalmente a mi viene in mente come qualcuno che può anche scrivere un libro in questo senso può raccontare la propria esperienza e può portarla anche a termine diciamo ecco questo questo progetto questa cosa qui può darsi che abbia a che fare anche con il fatto che in parte non vi volete troppo concentrare sull'amore e magari arriverà nella seconda metà dell'anno mentre nella prima parte siete più avviati alla possibilità proprio di fare questi cambiamenti e di portarvi a un livello diciamo di una di una quotidianità con delle nuove abitudini abbiamo infine ecco l'appeso che significa che voi adesso cambiate totalmente punto di vista quest'anno c'è un cambio proprio di mentalità andiamo a vedere cosa si vede per voi mese per mese allora gennaio tante coppe pare che siete un segno d'acqua allora ok sì c'è qualcosa con la quale diciamo per una sorta di filo no quindi fate il filo sicuramente tutto l'anno comunque con qualcuno c'è qualcosa che corteggiate nella vostra vita direi che rispetto a come partite e a come lo concludete il prossimo anno in mezzo ci sta di tutto però l'inizio è un po di chi si sente bloccato emotivamente la fine dell'anno è rispetto a chi diventa più sanamente egoista tende a proteggersi tende a trattenere come dire ecco quello che si è guadagnato come dire ecco con con fatica infatti questa fatica si vede in modo particolare su più punti ripeto l'anno inizia quantomeno a gennaio con qualche blocco emotivo soprattutto rispetto a certe situazioni sentimentali che possono essere pregresse o che ancora si possono riaffacciare sulla quale ripeto voi stendete proprio il velo dell'illusione dice no guarda io neanche ti credo più per poi passare nei mesi di aprile maggio e giugno diciamo ecco a veder letteralmente fiorire la vostra vita anche in faccia a tutti quanti a dire la verità nel mese di luglio ci potrebbe essere qualche momento come dire ecco di stanchezza potreste essere veramente un po' sovraccaricati però ad agosto direi che inizia un buon periodo perché è lì che iniziano nuove amicizie vi potete lasciare andare probabilmente ecco potreste avere anche il supporto di familiari che vi permettono di avere maggiore libertà e magari lì avete la possibilità di incontrare qualcuno di nuovo mese di agosto mentre a settembre iniziano nuove collaborazioni probabilmente questo l'aspetto legato al nuovo lavoro oppure comunque c'è qualcuno che vi dà più di una mano a dire il vero ottobre novembre dicembre le situazioni sono abbastanza stabili diciamo che su certi aspetti non volete come dire compromettervi compromettervi mi viene in mente proprio questo aspetto qui legato in modo particolare al mese di ottobre novembre come dire ecco può darsi che vi potete perdere un qualche occasione segnatevela sull'agenda perché evidentemente c'è qualcosa che potreste perdervi un treno quindi fate attenzione perché magari queste energie le potete pure cambiare e poi ripeto rispetto a questo treno perso quantomeno non volete perderci qualcosa di più e tenervi almeno quello che avete guadagnato quest'anno non solo in senso materiale ma a livello esperienziale direi che mesi certamente con migliori salvo poi prendersi diciamo ecco una schicchera quasi rinunciataria perché gli date un po il valore dell'illusione sono certamente il mese di febbraio i mesi di maggio giugno agosto sicuramente settembre e dicembre assolutissimamente sono questi qui i mesi per voi certamente con migliori va bene per alcune cose potrebbe anche essere proprio che ripeto voi mettete sul tavolo tanti progetti da realizzare tanti sogni da realizzare e magari ecco qualcuno lo iniziate su dove trovate delle collaborazioni sicuramente a ragion veduta avrete più possibilità di concretizzare queste cose andrete a corteggiare tante cose quest'anno va bene amici del segno dei gemelli anche per voi è tutto a chi mi fate sapere per le grandi linee come vi può risuonare anche se sono previsione i prossimi 12 mesi quindi diventa anche un po difficile commentare ma in ogni caso a chi non dispiace lasciatemi un like così sostenete il canale mi fate capire come meccano le nostre energie e anche un vostro feedback con la quale appunto mi ringraziate io vi ringrazio per avermi scelta vi auguro un ottimo anno un bacione grande tanti auguri buon 2024 alla prossima ciao